Buonasera a tutti, siamo ai campeonati nazionali di singoli a Caramea. Rete! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Sì! Sack! Dove! Grande parata! Sotto, passo! Sotto! Sì! Vai Gaetano! Vai Gaetano! Prossimo, voglio il prossimo! Dio, bello! Infatti ci vedi un po' di ritorno. Un po' di ritorno! E' uno! Diagonale! Gaetano! Due euro per Gaetano! Prima è teso! Prima è teso! E' pronto! E' pronto! Pronti! Tac! Valentino Gaetano! Aspetta! Vai! Aspetta! Scusa, scusa! Adesso Valentino con... Porta Gaetano! Attenzione Gaetano è impeccabile dalla mediana! Gaetano in poco! Oh! Mac! Dura! Dura. Vado a fare un doppio, per così. Ma qui d'alto! Vai! Diretta un po' con la Juve! Non lo vanno, la Juve! Com'è? Ah no, così va! Sono corti, sono corti! E' arrivato anche il signor Carmelo Caroli da Mesagne! E' uno! E' uno! E' uno! E' uno! E' uno! E' uno! Vai Luca! Vai Luca! Il boato che avete appena sentito è perché il Milan ha pareggiato con la Juve! E' una partita! E' una partita! Gli capitano! E poi sono iniziato! D'acqua? E poi? D'acqua! E' un bel? attenzione pari due il luca che si fanno le palle bellissimo è uno e sono due aspettano arriva il campredo vieni qua, stupida wow guarda come si va a stare la palle guarda come si va a stare la palle si chiama il laccio ah che sfiga Sì, via! Sì, via! Sì, via! Pari due!